Il ritiro ai tempi del coronavirus Lavellino, come tutte le altre squadre, non lo aveva mai vissuto. Gli spalti del campo sportivo il Castagneto di Sturno con un solo spettatore autorizzato di lusso. Il tecnico dei bianco-verdi, Piero Braia, che ha approfittato dell'inusuale privacy per affidare la prima seduta di allenamento al suo vice Domenico De Simone, ex calciatore centrocampista dei Lupi, e scrutare la sua nuova creatura dall'alto. In attesa dei colpi di mercato, con il ritorno di Castaldo che si avvicina a grandi passi, i volti nuovi sono stati rappresentati dal portiere forte e dal difensore Rocchi. Il preparatore atletico Natalino Ruh ha subito imposto ritmi alti pressando il gruppo guidato dal capitano in pectore, Giuliano Lezza, a fare da cornice il comune Irpino, che è tornato a ospitare Lavellino a due anni di distanza per la gioia della comunità e del sindaco Vito Di Leo. Noi abbiamo creato anche un'atmosfera di vicinanza, abbiamo attaccato i nostri vessilli, i nostri colori ai pali della pubblica illuminazione lungo tutto il paese, abbiamo affisso un cartellone all'ingresso del paese per il benvenuto ai calciatori, abbiamo detto anche ai tifosi, la speranza è che possano venire anche loro. Domani avanti con l'iter previsto dal protocollo e con le sedute individuali, in attesa di passare a quelle vere e proprie, ovvero collettive, tamponi permettendo.